Allora tunisiani iniziamo questo video così perché faremo la caccia al tesoro tunisianica eh vi piace questa qua nel nostro villaggio vanilla e voi due mi dovete nascondere determinate cose preziose che io ho qua in questo inventario però questa volta sarà leggermente diverso Gabri mi nasconderà 14 dei miei diamanti e tu mi nasconderai e tu Samu mi nasconderai 14 dei tuoi diamanti dei miei diamanti non dei tuoi scherzo tu sei povero lui non ha niente tunisiani no è povero e prima o poi ma è entrato ma poi scusa puoi avvicinarti al microfono perché non si sente niente c'è c'è Gabri che sente tipo sono povero sono povero ah ecco meno ma oh che bello però è tenis però non guardare se no no vabbè ok dai allora no vado qua vado qua dietro che qua posso guardare guardate che bello eh come come al solito io faccio vedere ai donisiani il bioma dei fiori ai donisiani che non l'avete visto 374 volte eh no no ma vi pare ma porca miseria ma quando mai poi praticamente c'è un po' di sabbia come potete ben vedere un esemplare di sabbia molto antico che risale ai tempi si 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 poi qua non so che caspita ci sia una sorta di casa di non so chi penso che qua ci sia allora però questa cosa fa un po' schifo allora adesso in live no scherzavo non posso mettere la chat tolto la chat perché magari c'era qualcuno che non voleva però è una cosa che mi fa leggermente nervosire questa qua perché c'è una costruzione che non è finita non so chi c'è stato e potrebbe farmi nervosire qua dietro casa comunque io sto arrivando chi è pronto è pronto chi non è pronto vado a quel paese io ho finito però sto arrivando aspetta se no vedi la direzione ma li devo mettere in terra in una cesta sì una cesta in una cesta caro come ti chiami tu Samu ah è giusto no scherzo scherzo ho fatto finito che schifo Denis non si ricorda i nomi no non è vero io mi ricordo i nomi faccio solo finito cosa hai detto Samu dimmi un po' anche dentro le case no sì anche dentro le case poi chiaramente io intanto vado a far vedere di nuovo la casa di Gabri perché io ho fatto vabbè se vuoi vengo con te vengo con te è fatto oh vediamo un attimo questa parte sotto che ha fatto la zona delle foracce ma stava uscendo veramente bella la casa piace sì molto bella bravo bravo adesso però comunque parto va bene però Samu è nascosto ok è fatto ok perfetto perfetto Gabri esce immediatamente certo certo allora praticamente iniziamo con Gabri io ho scelto un bel posto nascostissimo perfetto allora dimmi un po' si va da questa parte caro Gabri io meno allora da questa parte sì ok perfetto però dimmi acqua e fuoco è così che devo indicare l'acqua si sta iniziando a scaldare là davanti c'è un imbecille comunque eh lo vedo lo vedo ciao imbecille se stai guardando questo video ciao allora quindi l'acqua si sta iniziando a scaldare ma cos'è questa questa è la nonna gelsomina guardatela qua è tutta rotta bisogna curarla eh ma mi sa povera nonna mi dispiace ciao nonna nel caso poi ti cureremo prima o poi non lo so se Samu vuole fare il suo medico eh ero Samu il marpione delle nocci no no si sta raffreddando l'acqua eh che pizza questa acqua fredda allora come ti permetti di di essere davanti a al signor Julis e di mangiare con tutta questa nonchalance io veramente questa questa maleducazione stavo morendo e muori meglio così oh finalmente tu ti raffreddi tu ti raffreddi il cervello che non è mai caldo il tuo cervello non funziona mai acqua eh adesso si sta scaldando si sta scaldando bene sarà meglio si sta raffreddando quando si sta raffreddando ma dimmi un po' adesso si sta ancora raffreddando che pizza due si sta ancora raffreddando ma temporale ma che pizza ma dove 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 andare gabri dimmi un po' eh veramente eh si sta un pochettino scalando no 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 così si raffreddando ma scusa ma dove l'hai nascosto no è nascostissimo no non è lì acqua ma vede che qua c'è l'acqua ma dov'è eh segreto allora l'hai nascosto sotto la terra dimmi un po' non vale sai che non vale no no non è sotto terra però puoi rispondermi entro domani mattina quando ti parlo no 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 stai pensando qua dove non dove è nascosto adesso non ti ricorda più no 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 me lo ricordo me lo ricordo è per caso qua si si sta rinfrescando ma dai ma è qua è qua per forza qua no non è qui ecco si sta un pochettino scaldando ah ho capito dove è no 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 così si raffredda adesso però mi stai iniziando a romper le palle completamente è così così si sta scaldando forse così si sta scaldando un pochino di più si è vero allora quindi devo cercare qua per forza su me è qua in ah i miei 14 diamanti che schifo l'hai trovati sei stato molto bravo gabrie è stato complicato da trovare molto bravo bravo vedi che bravo che sono a nascondere si 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 e ora devi trovare gli altri è esatto quelli di samu chissà dove le avrà nascosti però è vero dove le ha nascosti io caro samu ti devo confessare che prima avevo visto la direzione da cui venivi quindi qua c'è un altro giocatore del server ciao kiri vgf tutto bene se stai guardando questo video spero di sì come allora non fate che non mi seguite sennò poi dopo vi devo vi devo vi devo sculaccia no che brutta cosa che brutta cosa no va bene non va bene allora invece se io cerco da questa parte è caro samu dimmi un po fuoco acqua e proprio un'acquazione di quelli ah di quelli tremendi dici allora allora qua non mi direi chi è stato a fare questa roba poi controlla come già si riscalda vero samu eh sì qua è da quella parte eh dimmi però c'è un tornato proprio pieno di acqua allora da questa parte per forti qua da quella parte proprio il terremoto il tornato tutti i oceani eh vabbè ma che caspita eh madonna è la fine del mondo invece qua eh qua già ci sta calmando la situazione ok allora forse da questa parte eh continua sempre di più sempre di più a riscaldarsi mi dici no l'acqua ok ok da questa parte da quella acqua ok perfetto ma dove può essere da questa parte acqua sì però entro entro il secolo corrente mannaggia al piffero volante tutta acqua certo che anche samu non sto bene dunia sì acqua acqua eh non è possibile adesso dunia spacca tutto vai in spectator e e trova qua qualsiasi no 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 è possibile e qua acqua ma perché ci sono dei blocchi che ti hai messo a caso cosa sono questi blocchi cioè boh ok comunque allora acqua mi dici giusto qua invece è da quella parte proprio enorme già te l'avevo detto no dai ma che pina dai donisiano mi prende per il sedere avete visto no qua per caso acqua dai ma che pizzo non era qua più caldo allora forse da questa parte giusto vediamo un attimo forse magari da questa parte oh pronto e ti telefono casa donisiano ma secondo me qua ha qualche problema cioè secondo me ci sono dei problemi cognitivi di nuovo acqua ma che pizzo è qua giusto fuochino no acqua acqua da questa parte guarda qua dove sono io ok quindi fuoco qui da questa parte fuoco fuochino fuochino no da quella parte acqua da quella parte ma allora è difficile no donisiano dai dai donisiano non è possibile ma io mi sono messo qui poi non te la dico la direzione ah quindi da questa parte è un pochino acqua acqua da questa parte fuoco fuoco ok da questa parte perfetto vai fuoco da questa acqua acqua eh ma che pizza da questa parte eh un pochino ah ma forse la nostra può essere non è che è in casa tua denis eh beh 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 eccolo qua ma grazie samu ma grazie di avermi messi praticamente nella cesta me li ha messi porca miseria molto bravo li hai trovati denis si li ho trovati adesso un ultimo turno così finiamo vuoi nascondere la mia armatura allora preferisco torturare samu in questo video visto che non ha mai fatto ok allora ti do il mio arco con cui primo ucciso l'unica l'unica cosa più più ricca che hai è il suo arco ma che cioè io po' dunisiano ma ma che povertà adesso però devo fare una cesta perché se no dunis non riesce a nascondere le cose ne ho io una ne ho io una ok perfetto grazie di avermelo detto in ritardo molto bene eh sì sì ah ok perfetto comunque adesso samu devi andare da quella parte e non guardare posso dire che comunque antonis è leggermente irritante eh infatti ma è sempre lì lo ammazzo si ammazzo comunque se vuoi stare in casa mia a guardare però non devi guardare in giro ok poi dopo dunis sentite che voce è il suo adente ok tutto quanta eh tutto quanta secondo me è morto bravo bravo complimenti grazie grazie devi l'acqua gasata l'acqua gasata ci interessavamo mamma mia porca miseria quindi samu beve l'acqua gasata ma dunisiano fatemi sapere voi nei commenti se bevete l'acqua gasata o l'acqua non gasata esatto l'acqua naturale eh sarebbe una bella cosa da sapere c'è chi beve l'acqua di mare direttamente ma davvero mi prendi per il sedere ah beh no perché pensavo stesse parlando sul serio gli atlantidi per esempio possono bere l'acqua del mare tra l'altro dunisiano una bellissima serie sugli atlantidi eh sta per arrivare è vero che c'entra con gli atlantidi ma ci stiamo lavorando ci stiamo lavorando un pochino un pochino giù sì certo puoi uscire immediatamente da questo buco di casa che fa schifo la mia casa ma no non è vero ah vero grazie gabri per questa tua cosa molto solenne forza dimmi vai vai proseguiamo ok allora dimmi un po' che cosa vuoi dire ok da questa parte fuoco fuoco perfetto più o meno allora fuoco no no acqua acqua assolutamente acqua però carissimo samu adesso devi parlare un po' di più tipo devi devi fare cosa devi fare per come ti permetti tu fare queste cose rompere il server di lui era per distorsi ah certo acqua ma qua c'è di nuovo qualcuno l'ammazza di nuovo acqua 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 perfetto ma povero eh mi dispiace a volte ah io le bocche scusate ma le dobbiamo distruggere tutte queste bocche no sei tu deficiente che ci vai sopra comunque acqua 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 assolutamente acqua ma chi è che tira le fesse acqua 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 guarda ma dalla parte completamente sbagliata no 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 acqua 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 il fuoco è casomai più da questa parte ma c'è qualcuno che tira le frecce un certo anthonyx allora anthonyx sta cacciando frecce poi dopo ci pensiamo ci pensiamo comunque comunque vai dicci un po' fuoco fuoco da quella parte stavi andando giù no 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 acqua 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 non è possibile andare ma scusa se ti dico acqua è completamente acqua c'è proprio un acquazzone completo va bene va bene va bene ok perfetto eh infatti è un acquazzone completo anche da qua si sta più iniziando a riscaldare però comunque acqua cioè se vai tipo la casa non è assolutamente no acqua acqua da quella direzione no io voglio indicare io doniziani se no non ci arrivi da quella parte vedi da quella esatto dai tentacoli eh forza guarda che po' no doniziani cioè io io ho sciocco basito cioè io ho sciocco io pazzurdo proprio vabbè comunque vediamo un attimo se ci arriva allora comunque sì così adesso ci stai andando sul fuoco eh adesso se ti butterai nell'acqua diventerà ancora più fuoco senti ah quanto brucia ecco che brucia madonna eh hai visto porca miseria che brucia ma allora è sotto terra no no perché dici questa cosa no e da questa parte devo dire a fuoco a fuoco ma cos'è questo tronco eh qua è la storia maledetta che purtroppo pervade la vanilla però per fortuna non è successo nient'altro ma io ho paura di andare su dici eh beh comunque certo che sei molto brava a parlare comunque no assolutamente no acqua acqua se sali è acqua perché non sono andato fin da su perché non avevo voglia anche perché poi però fai bene ad aver paura perché secondo me qua succede qualcosa di brutto sempre eh che sta gabri come ti sei permesso di vedere eh sono caduto per sbaglio non volevo ok perfetto comunque vediamo un attimo comunque lì ancora un po' comunque acqua anche perché dobbiamo finire il video ma sull'albero no ti ho detto prima no ma poi ti sembra un albero a me sembra un tentacolo enorme un tentacolo della malignità eh un tentacolo enorme che arriva ah ecco finalmente è il tuo arco molto mamma mia guarda si bravo ucciditi no guarda facciamo direttamente prima ad ammazzarti che dico ah che bello che bello ah donisiani si 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 è stato molto bello uccidere Samuelito eh gabrile non lo posso uccidere perché ha lanciato ebbè vedi che io ci metto mezz'ora ad ucciderlo ma vabbè vuoi che faccia slash kill eh no 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 please ah ecco sarà meglio puzzarione puzzardone non mi ha levato neanche mezzo cuore eh grazie al cavolo grazie al cavolo ma tu stiamo dove sei spawnato perché eh non posso al cavolo ah ok si ti tipperò appena finiremo il video perché devo attivare la chat mannaggia a me alla mia tipagine allora è stato bello fare il video con questi amici bellissimi che siete voi esatto io spero di avervi più almeno spero che Samu ci sia più spesso nei video perché è vero eh Samu è molto simpatico però non c'è quasi mai quindi non so eh esatto scrivetemi se volete anche voi più spesso Samu nel video che a volte parlo un po' male un pochino un pochino basso un pochino si dimentica di parlare alto tipo adesso perché si allontana dal microfono va in Burundi circa in Cile circa in Burundi sì 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 in quei paesi là vabbè comunque Duniziani fatemi sapere voi se volete vedere altri episodi di questa cosa scrivete tastiera bella così perché sempre la tastiera sì 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 la tastiera bellissima e quindi ci vediamo al prossimo video ciao Duniziani ciao 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 ciao